ciao amici benvenuti a un nuovo video di pezzi pinipon togli e metti oggi faremo qualcosa di diverso guardate questi contenitori di pezzi o sembra smr una cosa oggi non abbiamo idea di cosa ne verrà fuori quindi andiamo a giocare se iniziamo dalla testa e il pelo con i codini maglietta rosa e pantaloni esce questa bambolina così bella con accessori naturalmente ora una con trecce da pugile maglietta senza maniche ci siamo che non le manchi niente né nei capelli né nelle mani un'altra questi occhi così belli con questo look e gonna certo ora è pronta sì una streghetta pinipon con i suoi accessori da streghetta naturalmente abracadabra che faccina particolare eh capelli da regina magica mi cadono i pezzi questo vestito la corona ed è pronta per il ballo quante opzioni che ho pinipon non è infinito questi occhi ancora non li avevo visti capelli azzurri la vestirò d'inverno e con il cappellino che piacevole toccare i pezzi pronta avete visto ho cinque giocattoli nuovi ora devo dare loro dei nomi inventare una storia ho tanto da giocare piniponto agli emetti non ha mai fine mi raccomando iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuna delle nostre avventure e date mi piace al video continuiamo un altro giorno con tutti i pezzi che ho a presto ragazzi